Un set che vede Makarova crescere nelle percentuali di conversione, anche se continua a essere molto bassa la conversione della seconda. Intanto, Cahill per Simon Alep. Cahill ha fatto notare come Makarova comunque stia giocando più vicino al campo, anche detto va bene così, insomma, semplicemente normale che possa accadere. Ma dov'è essere venuto a questa parte sulle scoperta? C'è un'esperienza molto bene, però non c'è il gioco è un'esperienza di fare, e anche se faccia la scoperta per altri punti. Il gioco di scoperta, ma anche se faccia la scoperta per la scoperta. Un'esperienza che va bene, un'esperienza di gioco, un'esperienza di gioco, un'esperienza di gioco, con il gioco di gioco. Tante cose avete da cair in questo coaching, ma riassumendosi a parto sia di questo game in particolare, nel quale...